Siamo con Salvo Vitale, compagno di Peppino Impastato, nel raccontarci il territorio di Cinesi e in particolare Magaggiari. Salvo Vitale. Il territorio di Cinesi ha subito negli ultimi 50 anni delle devastazioni incredibili. C'è da chiedersi che cosa rimane di questo territorio. C'era questa pasta che chiamavano la penisoletta del molinazzo che costituiva una sorta di prezioso tesoro di informazioni sia geologiche che naturalistiche in genere. Vale la pena di tracciare questi contorni che cominciavano dalla pietravela, cioè da questa salitina che ci portava molto in alto. E quindi questo strapiombo sul mare c'erano una serie di passaggi pedonali con cui si andava al molinazzo dove c'erano queste tre calette. Una era la scaliglia, poi c'era la caletta di Petrosino che era un po' più profonda, poi c'era la caletta di San Giovanni dove c'era ancora un po' di sabbia e che era pescosissimo come mare. Questi accessi a mare erano ovviamente per chi li conosceva fatte tra pietre, mentre la costa in alto, quella dopo la pietravela, era quasi tutta marna di tipo giallo, dove però si poteva leggere la storia delle sedimentazioni attraverso le conchiglie infisse in questo tipo di terra. Negli scogli che davano accesso alla scaliglia poco dopo c'erano gli ammari, patedi, ricci, un tipo di vegetazione tipica. Fra l'altro alloggiavano anche polipi, runchi. Quindi dicevo che era un paesaggio pieno di vita, oltre che di ricchezza naturale. Tra i muri c'erano tipi di geichi, noi in Siciliano li chiamavamo i Sicilia, con una pelle proprio molto lucida che stavano tra questi muretti. Tu, Salvo, sei stato un anno fa circa autore di un articolo che rilevava un degrado e che non ha fatto scalpore di fatto sul territorio. Sì, fra l'altro la cosa più triste è che neanche una voce si è alzata, neanche da parte del sindaco, malgrado l'avessi informato di tutto quello che succedeva con la mia associazione, neanche una voce si è alzata a proteggere quello che era veramente un patrimonio di Cinesi. Io ho ovviamente riportato un po' i miei ricordi alla scalita, tutti i cinesari andavano a imparare a nuotare, a farsi il bagno, soprattutto i Molinazzara, cioè quelli che vivevano in questo territorio da cui sono stati cacciati con la costruzione della terza pista. Con la scusa della sicurezza, la costa, ritenuto che poteva essere friabile, è stata riempita di pietre, è stata interamente snaturata, per cui di quello che una volta era questo bel posto, dai punti che erano quelle della torre del Molinazzo per arrivare alla pietraviglia, si può dire che non c'è più niente, bisognerebbe davvero alzare una statua e mettere una targa agli responsabili di questo scempio.